Di quelle gare lì in realtà ricordo l'Australia perché, beh, pista della madonna, primo turno, poi l'epoca FP un'ora era, la pista per me è nuova, turno bagnato, vento, mi ricordo ancora che ho fatto tutta la sessione, o perlomeno fino alla bandiera a scacchi, quindi magari l'ultima run, 20 minuti, con stone, e lui mi tirò tutti quei minuti lì per insegnarmi la pista, lui è il mostro, era già, cioè, lui era KTM ufficiale, dopo sarebbe passato in due e mezzo, ok, ma aveva già un altro passo lì dentro? Ha sempre avuto un altro passo, ha sempre avuto un altro passo, questo è Razers, un podcast di Riccardo Ciotti, prodotto da Giaga Pubblicazioni, se vuoi puoi trovarci anche sui nostri canali social, buon ascolto, Lorenzo, ben trovato, Grazie, come va? Bene, bene, sempre di fretta, sempre di fretta, però ci abbiamo fatto anche a fare questa, allora, ascolta, questo podcast a noi ci piace raccontare un po' la storia degli atleti, dei personaggi che ci vengono a trovare un po' come hanno cominciato e come continuano a fare quello che, insomma, è un mestiere, ma prima di tutto, in questo caso, una passione, Quindi, cominciamo proprio dagli inizi, inizi, dove nasci? Nasco a Brescia il 10 agosto 1987 Ok, il tuo contesto familiare, cioè, immagino un bambino normale che andava a scuola, aveva le passioni comune di tutti quanti? Bambino vivace Vivace? Così, così mi è stato detto, qualcosa ricordo, un po' di danni, insomma, da piccoli gli facevo, però alla fine ho sempre impressa la mia passione, cioè i motori, i motori mi hanno sempre affascinato, da qualche ricordo, qualsiasi cosa che muoveva, che aveva un motore, mi è sempre piaciuta e ricordo ancora quando mio papà veniva a casa da lavoro la sera tardi o pomeriggio tardi con una moto, 125, e c'ho ancora in garage, la sua l'ho tenuta e io gli rompevo le scatole affinché mi portasse a fare un giro però ecco, diciamo, mio papà in primis era un appassionato e quindi me l'ha trasmessa, però credo sia incondizionata, alla fine sì, ma devi avercela nel sangue, credo Quindi comunque tuo papà era un appassionato, sicuramente buona parte ce l'hai messa a te Era appassionato più di rally lui, in realtà non glielo neanche mai chiesto, però nella nostra zona la vivevo e anch'io in realtà la mia vera passione sono le auto Sono le auto? Sì E vabbè, allora, dopo arriveremo a capire come sei arrivato alle moto se nasci con la passione delle auto Quindi tu, diciamo, un ragazzo vivace e a un certo punto ti sei trovato in una condizione di provare una moto In realtà io molto tardi, perché appunto vengo da una famiglia molto modesta e non aveva le possibilità Il mio padre in primis non ha mai potuto gareggiare, se non quasi quando ho iniziato io Quando ho iniziato ad avere un pochino la possibilità, ha fatto qualche rally in auto Ah ok Così ci riallacciamo alla sua passione E non avevamo assolutamente la disponibilità economica perché io potessi usare il go kart Perché avendo la passione delle macchine in realtà inizi con i kart Certo Quasi per gioco un amico di mio padre che lavorava per Polini Gli dice ma perché non gli fai provare la minimoto? Ma non me l'ha mai chiesto perché io in realtà delle moto non gli avevo mai chiesto niente Non ti interessava? No, mi piaceva proprio il kart, mi piaceva le macchine Per me era il rally l'obiettivo finale Così fu, mi fecero provare una minimoto In realtà all'inizio ti dico sì Però il focus era il kart Però alla fine a farla breve economicamente Sono riusciti a farmi di regalo la minimoto a Natale Santa Lucia c'è a Brescia E quindi a dieci anni mi trovai a Santa Lucia a regalo la minimoto E da lì quella c'era Ho iniziato ad andare in pista Trauma Prima uscita, tre cadute in un giro E t'età? Dieci anni Dieci Già tardi per la mia generazione Mi ricordo i vari corsi Simoncelli, Pasini, Dovizioso Insomma tutta la tua generazione La generazione che siamo arrivati al mondiale Iniziarono chi per scherzo ha 3-4 anni Kia 5-6 Ma io ero quasi una generazione dopo L'avevo saltata tutta l'altra fila da minimoto Dovizioso Sì sì tutti Però alla fine due o tre volte iniziò a piacermi E da lì siamo arrivati al giorno d'oggi 26 anni dopo 26 anni dopo Perché poi la caratteristica che vi accomuna È questa Anche avendo un'età molto giovane Ci si ritrova comunque poi ad avere già una carriera Che è l'80% della propria vita A livello numerico Perché 26 anni su 36 Sei Sei Eh Bah A leggerla così Perché poi Sai Viviamo in una vita frenetica Non ci fa neanche caso Poi la leggi così Effettivamente dici Cazzo Vent'anni che Che sono In giro In giro Però in realtà Infatti Poi ti magari ti rallacci sempre la domanda Ma quando smetti Boh Cioè io ho una passione tale Che non mi ci vedo smettere Non so se è un bene o un male Questo purtroppo Non lo sappiamo Perché nessuno Tanti atleti ci insegnano Che in realtà è un bene Ed è un male Per cui Mi piace Quindi Finché ti piace Ti diverti Le cose funzionano Io direi Tante scelte insomma Mi fa vivere bene Alla fine credo che a volte Ti fai delle domande ovviamente Certo E dici sì magari Le scelte sbagliate Che sono state fatte Quando ero al mondiale Management Cose varie Magari Mi hanno portato in realtà A correre molto più a lungo Di quanto invece Magari se raggiungi Determinati obiettivi Sia sportivi che economici Ti porta magari A smettere prima Invece Forse questo A volte Invece è un bene Lo cerco di vedere come un bene Perché non avendo ottenuto Determinati risultati E introiti economici In realtà Mi hanno lasciato intatta Quella passione Cioè alla fine io corro Per la vera passione Che avevo Quando avevo dieci anni Che bello Perché 26 anni dopo La stessa passione Insomma Non è Se non di più forse Perché appunto Prima ti ho detto all'inizio Non è che mi faceva impazzire la moto Invece poi Invece poi È scattato l'amore E invece adesso Mi regala delle emozioni Che poche altre cose Mi regalano Quindi in realtà Mi fa proprio mantenere Vivo Certo Che è la cosa Importante Quando la passione Appunto Comanda Sulla Sulla tua vita Sostanzialmente È poco razionale Ma è così È per aver Detta dei fatti Quindi Tu cominci Con queste mini moto 10 anni Con insomma Più o meno Le persone di cui Abbiamo Abbiamo dominato Prima Però dai 14 Penso che sali Velocemente Alle ruote Alte Beh sì Poi in realtà Ho iniziato tardi Ma è stato Tutto velocissimo Perché avendo Cominciato tardi In realtà Effettivamente In minimoto Ci sono stato 4 anni 3 anni e mezzo E poi subito Ruote alte Da lì Forse Forse non sono stato Neanche io al passo Col tempo Cioè avendo fatto Poca minimoto Non ero magari Preparato A tutti i cambi Mentalmente Non lo so Perché effettivamente Se penso Alla mia prima parte Di carriera Anche al mondiale Quando magari Tanti si godono Un punto di partenza Io ho pochi ricordi Ho pochi ricordi positivi Perché lì È un tritacarne Però in realtà Anche oggi Che la vedo da esterno Tantissimi piloti La vivono così Tant'è che poi alla fine Quelli che non ce la fanno Poi scoppiano Perché pressioni alte Sei magari fuori luogo Per quell'età Perché alla fine Ognuno matura Alla sua età Non so C'è chi matura prima Chi dopo Però i ragazzi Della moto 3 Quella che era la 125 Insomma Sono tutti molto Adesso hanno forse Più carichi ancora Di quando correvo io Arrivano più preparati Più selezionati Perché cominciano prima Selezioni prima Ma c'è una formazione Ma c'è una formazione Comunque migliore Di quando ce l'ho io Cioè di quando io avevo Quell'età Però comunque poi Quando arrivi là Sbatti contro il muro Certo Carichi di pressione Ci sono Come ci sono in tutti gli sport Professionistici ormai Però dove gira Insomma anche tanto Il denaro Sì chiaro La pressione aumenta Quella è sempre una componente Più interessi ci sono A livello economico Più pressioni Ti mettono Perché tanto Alla fine Sei un numero Purtroppo per tanti E certo Assolutamente E' un po' quello che non mi piace Dello sport al giorno d'oggi Che alla fine Tu sei l'attore finale O meglio In realtà Tu sei l'attore principale Ma tu Per l'80% Delle persone Che lavorano all'interno Che quindi sono tutti Quelli al default Che dei piloti E qualche manager Competente Sei alla fine Solo Un traghettatore Da usare Però in realtà Tu saresti l'attore principale Sì E non sei valorizzato Come attore principale Quello è un po' il brutto Penso un po' di tutti gli sport A livello A quei livelli Sì sicuramente Ho notato Che cambia Mentalità In altri contesti Tipo in America Lo sportivo È visto più come L'attore principale Quindi è trattato Anche da tale Perché viene trattato Da sportivo E da professionista Anche da subito Diciamo Sì È proprio Mentalità Probabilmente Differente Poi ci sono anche Il business Anche lì sono spietati Perché Il business Business is business Però alla fine Lo sportivo Viene considerato Come l'attore principale Che è la cosa fondamentale Credo Che sia anche quella Corretta Certo Tu cominci quindi Magino la sport production O sei già partito Con le GP Allora Tecnicamente La prima volta Come sul culo Su una 125 Era una sport production Ok Però In quegli anni Stava andando a morire Il trofeo Il challenge Aprilia E l'SP Quindi in realtà Poi la gara La feci con l'onda 125 GP Quindi in realtà Debutai a Rieca Perché là si poteva girare Anche se non avevi 14 anni Non chiedermi Se era legale o no Non lo so Ma te ne avevi Ne avevo 13 E mezzo Non avevo ancora compiuto i 14 E dopodiché Ha deciso di farmi Debutare direttamente Col GP Al CIV O al Mondiale No Prima volta Debutto GP Che mesi in culo Su una 125 Questo qua Probabilmente Non lo sa neanche Quasi nessuno Eravamo io E Nicolo Canepa Mi ricordo perché Lui aveva una GP Su padre Comprò una GP 125 E mi chiese Se andavamo insieme Eravamo amici di famiglia Siamo ancora amici Io e Nicolo Ma io Nicolo Lo conosco Bene E lui aveva paura Di rodare le gomme Allora Mi chiese Così sono passi Andavo con loro E feci io Il rodaggio delle gomme Ecco Delle gomme E lui poi ha girato E dopo Anch'io Girò anche lui Dopo Debuttai con quella Non con quella Non con la sua Ma Debuttai nel trofeo Honda Ah Ok Trofeo Honda Che fece pure Marco Simoncelli Il trofeo Honda Ma allora Diciamo che Quegli anni Il trofeo Honda Come Valenza Valeva quasi più Dal Cif Cioè chi vinceva Il trofeo Honda Andava al mondiale Eppure Dovizioso Se non sbaglio Viene da là Dovizio no Perché Corso con Aprilia E poi debuttò al mondiale Con Honda Con Honda Io feci il contrario Però quegli anni Lì sì Vinci io Prima di me Corsi Andò al mondiale Prima di me Andò al mondiale Insomma Chi vinceva il trofeo Honda Tecnicamente Andava al mondiale Primo anno di trofeo Vinci il trofeo No No Che tra l'altro Il debutto Feci anche lì Iro in testa Campionato italiano All'epoca C'erano tanti iscritti C'erano le selezioni Nord e Sud Ah sì Io vinsi la selezione Signora Zona A Corsi La selezione B Dovevamo scontrarci Alle finali Ma il budget Era quello che era Compivo gli anni ad agosto Quindi al rientro Dalle ferie C'erano le finali E Avevamo trovato Degli sponsor Che coprivano Le tre gare Di campionato italiano Minimoto Comunque C'erano le trasferte Le finali erano qua Verso Mi sembra una A Roma Una In Toscana Se non ricordo E Mio padre mi disse Cosa facciamo Le tre finali O una gara di Trofeo Honda Che mi chiedi Che domande Gara di Trofeo Honda E debuttai a Magione A Magione Sì Magione Da lì parti tutto Il campionato Lo vinsi Due anni dopo Il Trofeo Honda Ok Perché l'anno dopo Feci l'anno Insieme a Corsi Lo vinse lui Ok Passò al mondiale L'anno dopo Vinci io E passi al mondiale Parliamo del Due Allora Debutto Era 2002 2002 Quindi feci tutto Il 2003 completo Diciamo E 2004 Iniziai l'anno Vinci il Trofeo Honda Ma saltando metà stagione Perché poi mi chiamarono al mondiale A sostituire Ballerini Perdona la memoria Ma Con l'apriglia 2004 E com'è stato quello A livello di Immagino che passare Da un Trofeo Honda A un mondiale Soprattutto a quell'età Insomma Ma io ero molto veloce Ero molto ignorante Cioè Ero molto convinto Di me stesso E in realtà A pronti via C'erano anche le premesse Cioè i risultati erano buoni Ripeto Poi ci alleciamo Invece che sono state fatte Dalle scelte sbagliate Che invece mi hanno fatto Prendere alla carriera Un indirizzo diverso Perché all'epoca Non è come adesso Che la Moto3 È molto equilibrata Che quindi le moto Sono più o meno tutte Molto molto semine Lì se non avevi La moto buona Facevi poco Già fuori dei 10 Cioè Ah ok Quello era anche difficile Da accettare Perché tu sai che Cioè vai a correre E non puoi giocarti La vittoria Poi a quell'età Che non hai Non sei capace Magari a gestire Le emozioni Gestire un weekend di gara È frustrante Tu puoi fare comunque Di più Cadis Però Avevo fatto vedere Delle buone cose Perché all'inizio La moto non era Neanche male Però dico L'impatto emotivo Dico Soprattutto La prima gara Però tu Sei andato Spavaldo Allora Quando hanno iniziato Io ho iniziato Il 2004 Molto bene Perché Prima gara di Beh qua europeo A Vallelunga Va rotto Nel giro di ricognizione Ok Prima gara di italiano Secondo In volata Ho battuto Piro Aveva vinto Aldrovandi Secondo Io terzo Piro E trofeo Honda Partito subito Vittoria Vittoria Secondo Le altre due gare Di italiano In realtà Ho rotto il motore In tutte e due E quindi L'italiano ormai Sapevo che non potevo Giocarmelo Il trofeo Honda Era in testa Ampiamente E mi chiamarono Per subentrare A pilota Già dal Brasile Però io dissi di no Perché Ero ancora Troppo in lizza Per il trofeo Honda Almeno Feci ancora una gara La vinse Allora ormai Avevo punti abbastanza Dico ok Quindi subentrarei Da Borno Da Che Quegli anni Era d'agosto Mi sembra La settimana Di Ferragosto Sì E Quando Mi chiamarono Per confermare Che sarei subentrato Da Agosto Ero in feria Era il primo anno Tra l'altro Che andavo in feria Da solo Con gli amici Ero riccione Tra una sbornia E l'altra Sei dovuto tornare E Cazzo Mi ricordo Ancora Che ricordo Ecco Un ferie Con gli amici Lascio sul telefono E mi dicono Cos'hai Cazzo Settimana prossima Debuto al mondiale E c'è stata No Con la percezione Perché loro tutti Cazzo Ma ti vediamo in televisione Su Italia 1 Cioè Perché andavamo a tutte le 1 Io In realtà L'attimo Non ci fai caso Era più negli occhi di loro Che dicono Cazzo Sei arrivato Dove Dove volevi arrivare Poi in realtà Era un punto di partenza Però ricordo Ancora Impressa La chiamata Quando lasciai giù E Cazzo Devo partire Andare a Borno Se lo fa Cioè Comunque Il pensiero era quello Insomma Sì Ce l'ho fatta Un primo obiettivo Era stato Giunto Partire Andare su Senza Sapere Non avevo Aspettative Perché fai fatica C'erano i senatori Delle categorie All'epoca Lucatelli Che correva Quindi Insomma Ui ci ui C'erano ancora I senatori Che magari Facevano tutta la carriera In 125 C'era pure Come siamo L'ungherese Dal Maxi Dal Maxi C'era C'era Simon C'era ancora York Lorenzo C'era Dovizioso C'era Stoner Insomma C'era giusto Stoner Perché Quell'anno Era l'anno Che dopo Loro passarono Tutti in due e mezzo Dall'anno dopo Quindi stavano finendo La stagione Che vinse Dovizioso Il mondiale Melandri Era già in due e mezzo Melandri Era già in GP 2-4 Sì Però Insomma C'erano ancora Tutti C'erano I senatori Della 125 E poi I talenti Che poi arrivano In MotoGP So che Arrivare Bornaud Pronti via Ottavo tempo In qualifica Bello Infatti dico Cazzo Non sono marziani Seconda fila Perché all'epoca Era a 4 Non sono marziani Si può fare In effetti si può fare Non è nessuno marziano Dopo subentrano Tutte le scelte Sbagliate Perché la percezione Anche di uno Che corre Ma comunque da casa E non ha mai fatto Un mondiale È sempre quella Di Il mondiale È un'altra categoria È un altro livello Quelli sono dei marziani Perché oggettivamente Vai a paragonare Solo i tempi Piuttosto che le prestazioni Ti trovi tanti Invece No Infatti Quando dico sempre Sai Dopo Tu cresci E ti chiedono Adesso magari Sono anche un tecnico federale Vedi quei ragazzini Talenti azzurri Che stanno facendo Un ottimo lavoro Comunque ti capita Di parlare Ma anche In altri sport Vale Secondo me Quella regola Vale per tutti gli sport Non è tanto Il La difficoltà Diciamo Del gesto atletico Del talento Perché tu se arrivi lì Più o meno Se non sei un raccomandato Che ha la valigia Mega Iperastronomica Che però Si vede subito Che sei fuori luogo Certo Fai un anno Se tu ci arrivi per meriti sportivi Tu sei convinto E ti rendi conto Che non sono marziani Dico sempre Il difficile È il contesto Cioè tu sei abituato Arrivi da un contesto Amatoriale Di poche gare Vicino a casa Con i tuoi effetti La tua famiglia Tu vieni scaraventato In un mondo Dove Sei via Tutto l'anno Fuori casa Con persone Devi convivere con persone Che magari tu non ci andresti neanche a mangiare la pizza Perché sono Certo Agli antipodi della tua persona Che vorresti conoscere O frequentare Pressioni Abnormi Lingue diverse Che si parlano Lingue diverse Cariche appunto Come dicevo Di pressione Inizi Inizi A entrare in un mondo di adulti Molto giovane Perché sei giovane E inizi All'inizio fai fatica Però lo percepisci Lo capisci dopo Che magari ha a che fare con persone Che non hanno interesse Non credono in te Ma per forza di cose Magari ti trovi a lavorare insieme Però alla fine La tua testa lo capisce Sei te che non lo vuoi Capire all'inizio Il problema è che queste cose Portano a rimare contro Il risultato finale Quindi dico sempre Alla fine Il difficile è proprio Quel carico Che si genera Al mondiale Il ritmo Io lo chiamo Il ritmo del mondiale Bello questo Che per me Il ritmo mondiale Non è il ritmo Del cronometro in pista Si 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 in parte Perché lì entrano Dopo due giri Girano già i tempi record Si E comunque si Anche fuori la pista Però per me Il ritmo mondiale È generato da tutto Quello che Che Concede quando vai In quegli ambienti Lì esasperati Dalla fine Quello è difficile Soprattutto a quelle edà Perché poi Adesso la gestiresti In maniera completamente Differente Una situazione del genere Ovvio con l'esperienza Adesso fortunatamente Non so se perché Magari i piloti Arrivano già con una Un background diverso Già con Magari Preparazione Preparatori Tecnici Cioè manager Che magari non il coach Il coach Che di solito è fatto Magari da ex piloti Come posso essere io O altri Che hanno questa esperienza E Tutelano Il pilota Che in quella fase Non capisce Il gatto Di queste robe E Che è un aspetto fondamentale Che poi Prima esisteva poco In realtà Si È una figura Che è uscita Gli ultimi anni Però anche lì Vedo che iniziano A facciarsi Ma anche lì Da Fatica a volte A parte i team ufficiali Che hanno la possibilità Economica Magari adesso arrivano Piloti che hanno dei budget Comunque importanti Ma si trascurano questi Aspetti Che magari Spendono 300.000 Per correre Magari non ne spendono 30 per avere una persona Che Ti copre Ti allena Ti gestisce Ti prepara Tecnicamente Mentalmente Invece Vedo anche tante improvvisazioni In questa figura Come sempre Anche lì Allaccio sempre Che lì Ci sono tanti interessi economici Ma rispetto a una volta Girano meno soldi Esatto Quando girano meno soldi In un ambiente In realtà Si abbassa Il livello Di competenza Perché Chi è bravo Chi vale E va avanti Va in ambienti Dove Si è remunerato Correttamente Beh Quello che comunque Abbiamo rischiato in Italia Negli ultimi 10-15 anni Sì Bisogna dare atto Che Tanti criticano Non voglio entrare Nei particolari Perché in realtà Non li conosco Però devo dire Che effettivamente La guerra 46 Ha fatto Un ottimo lavoro Allo stesso modo Direi anche la federazione E la federazione Uguale Perché La federazione Tutti criticano E fanno In fretta Criticare Però Per le loro possibilità Economiche Perché anche tutti Pensano La federazione Sì ma non ha Un bacino Infinito Delle risorse Infinite Quelle risorse Che ha Adesso che ho capito Come funziona Il programma Talenti azzurri E fanno Un ottimo lavoro Sì Lo stesso Comunque Cibercampione Italiano Negli ultimi 10 anni Comunque ha ripreso Un pochino di valore A livello Di qualità Che aveva Un po' perso Secondo me Qualitativamente È superiore Da molti altri Campionati Solo che Non siamo bravi A venderlo Sicuramente Se penso che In superbike Lo posso dire Perché ci corro Quindi ho la percezione Facciamo dei tempi Che a mio avviso Siamo molto più forti Dei piloti Del BSB Per dirti Ah ecco Il BSB è l'unico Che avrei detto Magari No 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 È perché è un campionato Molto particolare Cioè Se non sei Devi essere uno specialista Di quel campionato Tu vai su Piste particolari Molto molto particolari Nella dimostrazione Abbiamo invitato Qualche tempo fa Davide Giuliano Che ha fatto La stagione Con Tycoon Con BMW Adesso non ricordo Forse non l'ha terminata Forse non è neanche parte Adesso non ha fatto i test Se l'ha fatto male E forse Qualcosina ha fatto Sì comunque Esatto Non vorrei dire Una stupidata Però Effettivamente È un campionato Molto Da specialisti Sì Dopo certo che va forte Però Pronti via Andiamo a fare Una wildcard In un campionato In un campionato Mondiale Superbike È più facile Che Vada meglio Io Ecco Ah Rispetto a Un pilota Allora Lo dimostrano Anche le wildcard Che vediamo Esatto Solo che Il nostro Di regolamento È completamente L'opposto Allo superbike Quindi non possiamo Fare wildcard Però guarda Il 2019 Quando ho sostituito L'Averty Prima di me L'Averty Quando sono infortunato È stato sostituito Da Tommy Bradwell Quello che adesso fa Adesso in testa Al BSB Se non sbaglio Quando sostituivo Mi hanno fatto meglio Ah Certo Per cui Top 10 Sì Ma io non è che volevo No 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 Era chiaro E parlare del tuo risultato Perché poi sai Il risultato in sé E lascia il tempo che trovi Esatto Io parlo che Loro hanno poi Cioè il mondiale superbike Attinge dal BSB Dai piloti Da noi no Era quello E non solo Da quello che so Appunto Il BSB A livello economico E remunerativo Nella maggior parte dei casi È capace che è più convenient Anche del mondiale superbike Sì sì Quello sì Se non altro I top team Magari Più o meno Si equivalgono Un po' meno Però parliamo degli ufficiali Mondiale superbike Sì certo Però dico proprio A livello di Attingere Cioè Quest'anno Pilota Del Moto X Racing Adesso non mi sfugge Bradley Bradley E All'anno scorso ha vinto E qui sta facendo fatica No però L'hanno preso Sì Tarrah McKenzie L'hanno preso in 600 Perché non ha trovato posto Però dico L'hanno preso Il BSB Aslan due anni fa L'hanno ripescato Gli stessi camion M&R e i stessi inglesi Hanno fatto quello Da noi no Da noi no Cioè Vinco il CIV Vabbè Della Michele vince il CIV Lui con la dottore Michele vi corre Non può Lui con la dottore GP non può Però Io adesso sono in Lizza Non è che l'anno prossimo Mi prende Non dico ruba Perché Team ufficiale Giustamente Poi ho la mia età Giusto che puntino Sui giovani Però Neanche un team Di seconda fascia Che dice Prendo un pilota Che so che mi fa risultato Non cade Non fa danno Esperienza Mi porta sempre La moto al traguardo Come un Petrucci Esatto Petrucci Esatto Potrei paragonarmi lì Ma lui viene dalla GP C'ha un background diverso C'ha un background diverso Ma sono sicuro Che viene a fare il CIV E non è che Lo stravince Se la giocherebbe Con me Con Michele Con Bernardo Qualche giovane talento Tu c'hai corso Con Danilo? Sì Stokmille Quell'anno lì Vince Giuliano La Stokmille Secondo Petrucci Terzo io Quarto vaneta 2011 Giusto 11 E perché vinse La Sì E il CIV Lo vinse Petrucci Il CIV sì Infatti gli dico sempre Gli dico sempre A Giuliano Cazzo L'unico anno Che si è stato in piedi Tutta la stagione Quello che ci potevi lasciare Perché lui andava fortissimo E si è parlato fortissimo Ma rischiava anche tanto E quell'anno invece È stato veramente bravo Perché praticamente Non è mai caduto L'anno che Mi stavo toccando il titolo Te non hai fatto un errore Vabbè Però Queste sono Sono le gare Come It's Racing Esatto E Quindi Torniamo un attimino Riagganciamoci un pochino Alla Alla tua carriera Quindi tu sei arrivato al mondiale Borno Hai fatto la tua overcard Come finisce quella stagione? Allora Finisci tutta la stagione? Sì sì Finisco tutta la stagione Da lì Gara Poi ho fatto sedicesimo Se non mi sbaglio Non ho preso punti Sedicesimo Sai gestione gala Lunga Non avevo un'idea Perché c'è anche questo fatto Perché uno viene da 12 14 18 Giri di gare A tenere A fare 26 27 Sì 14 Io 26 Sì sì Mi ricordo Qua è il doppio Però L'impressione è stata buona Quindi la squadra mi dice Sì sì Cioè Riconfermiamola Il discorso Che finisce la stagione Da lì andiamo in Portogallo Anche lì Poi piste nuove Non male Non era Portimau Era Estoril Poi da lì si parte Si va a fare l'extra Europa Erano tre Il trittico Non ricordo l'ordine Mi sembra Già Poi un'Australia-Malesia Ma Sì sì Che poi adesso Sono diventate cinque Adesso forse anche di più E perché in mezzo C'è Thailandia e India 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 Quest'anno India Comunque si va via E ricordo Infatti Bello Bella Bella esperienza Ricordo più quello Ricordo ancora l'Australia Di quelle gare lì In realtà ricordo l'Australia Perché Pista della madonna Eh tra l'altro Primo turno Poi l'epoca FP Un'ora era Eh sì Oh Io Mi ricordo Cioè la pista per me Nuova Certo Turno bagnato Vento Mi ricordo ancora Che ho fatto Tutto la sessione O perlomeno Fino alla bandiera scacchi Quindi magari l'ultima run 20 minuti Con stone E lui mi tirò Tutti quei minuti lì Per insegnarmi la pista Lui è il mostro Era già Cioè Lui ne capiteamo ufficiale Dopo sarebbe passato In due e mezzo Ok Aveva già un altro passo Lì dentro Ha sempre avuto un altro passo Ha sempre avuto un altro passo Quell'anno Ho vinto Ho vinto Il mondiale Però Che ricordo Magari adesso Per quel che ricordo Perché poi Dopo da lì Lui è andato in due e mezzo Io non ho più Certo Condiviso la pista Lo vedevo a bordo pista Perché poi andavo a vedere le sessioni Però ho questo ricordo Perché danzava in mezzo alle curve Di Phillip Island E io ho fatto quei 20 minuti dietro Non guardavo tabella Guardavi lui Guardavo lui Perché imparavo la pista Per realtà finiamo la sessione Lui primo Io terzo Capito Perché poi effettivamente Facevo le sue linee La stavi E l'avevo ringraziato Perché effettivamente Per me la pista era nuova E così Mi ricordo ancora questa cosa Ho tanti spezzoni Questo è uno di quelli L'immagine però Non mi ti dà bella Ve lo ricordo Poi bello Colore arancio Capattiva ufficiale Red Bull Bella Certo Poi lui dava bene Ce l'ha dimostrato questo Peccato per troppo poco Ecco Poi arriveremo a parlare anche del lui L'anno dopo Fai tutta una stagione? Allora Sì E l'anno dopo Rimango lì Perché alla fine Sai Mi hanno dato l'opportunità In realtà Ho fatto Cioè Si intravedeva Che c'era del potenziale Nella moto Non andava male Quindi decido Di rimanere lì Anche se Avevo rinunciato A A una bella offerta Che magari Già quella Era una di quelle Che secondo me Già lì ho sbagliato Economica? Sì ma economicamente Non era Quella che ti fa Cambiare la vita Però sarei andata In una squadra ufficiale E al posto di Horgo Lorenzo Perché anche lui passava in moto Quindi C'era una proposta Dopo sai Bisogna vedere se si fosse concretizzata Però noi Eravamo a Valencia All'ultima gara Parli di derby Sì perché lui andava in due e mezzo Anche lui E c'era quella possibilità Non l'abbiamo approfondita Quindi magari Magari non si concludea Però Però c'era C'era anche Il discorso economico E tutto Quindi bene o male Sapevo già Però Anche con il manager Cavolo qua Comunque squadra Meno pressioni Parababa Cioè Quelle Quelle ottiche Che quando sei così Effettivamente Piccolo Giovane Perché Invece adesso dici No cazzo Se hai le possibilità È giusto che tu Pressioni Tanto arrivano Prima o poi Arrivano Quindi è giusto che li affronti Certo Se sei pronto bene Se tanto Dopo passa il treno Vabbè Rimaniamo lì In realtà Venivi già pagato? Sarei stato pagato In derby Esatto Dove sono rimasto Dove sei rimasto? No Quindi comunque Hai rifiutato Per quanto grande Volevo essere Però comunque Manager C'avevano degli sponsor Che mi appoggiavano Quindi lo stipendio Mi usciva Ok Non usciva come stipendio Dal team Ma comunque Non era uno stipendio vero Di casa Ti paga X Corri Ok No Rattiriamo fuori i soldi Dagli rispondi Vabbè Quello che è Rimaniamo lì In realtà Sulla carta Non era male Ma non è neanche Stato male All'inizio Però Ripeto Rientra in esperienza Prima gara Qualifiche Ottavo Ero il venerdì Sabato Adesso ci penso Io vi faccio vedere Io Mi ricordo Simon Celi In pool provvisoria 2005 Entro Pista Gerez Mondiale iniziava Gerez Faccio le prime due curve Dalla 3 Inizio a scendere Dove siamo A tumare Marquez Entro alla 4 Pieno 125 Folata di vento All'epoca Quando uscivi C'era il verde Vero L'erba Non c'era E poi iniziava il cordolo Io sono uscito prima Ho preso l'inizio del cordolo Mi si è spaccato il cerchio in carbonio Esploso Caduto Rotto la caviglia Comunque Il sabato La domenica mattina Mi sono presentato in griglia Perché io ho detto Partivo ottavo Se non sbaglio Anche lì Io Prima gara di mondiale In griglia ci vado Ho fatto un giro Mi sono ritirato Da lì c'era subito il portogallo Siamo andati in portogallo Ho fatto l'FP Non ce la facevo Andiamo a fare dei controlli Con costa Più approfonditi Vediamo che ho tre fratture Quindi niente Salto anche in portogallo Salto la Cina Rientro Aleman Undicesimo Se non sbaglio Con Poggiali Ci giocava Mi ricordo ancora Battaglia Comunque la prima gara Nel rientrare Lì bene Mugello Mi sembra Anche lì Decimo Undicesimo Adesso passami Sì Vabbè Adesso Andiamo a Barcellona Prima fila Quarto Gara Mi sembra l'ottavo Non è comunque top Da lì si va Borno Quinto In gara Bene Certo Bene Da lì andiamo In Qatar Mi sembra Che sicura è ancora di giorno Sì è la primo anno Che si andava in Qatar Nelle prove E anche lì stavo decidendo Da fare se avevo altre proposte Interessanti Però sto facendo bene Da lì Era venerdì Mi sembra ero terzo Il venerdì mattina Rompo il motore La sera Da lì è arrivato C'era stato Il passaggio In aprilia Dei tecnici Che il coordinamento Era subentrato Da lì Gigi Sì Al posto di Witteven Sì Witteven aveva un buon rapporto Con il Tinker In quel momento Quindi il motore Andava bene Ok Nel rompere quel motore Sono passato che ero terzo Ma non andava più un cazzo S'era tu anche il rapporto No 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 Il mio perché Poi come avevo con Dalia Esatto Però all'epoca Quando ero piccolino La coordinazione tecnica Col team dell'epoca Non c'era Si vede Il rapporto Non so se erano interessi economici O quant'altro La moto non andava più Però io ormai Stavo facendo bene C'era già un precontratto Anche lì Abbiamo deciso di star lì E da lì è stata la discesa Però Vabbè Comunque Troppo lunga Da raccontare Ari a un certo punto Arrivare a due e mezzo Due e mezzo L'ho solo provata In un test Avevo anche lì La possibilità Di salire Di categoria Nel 2009 Sempre Della famosa scelta Sbagliata Decisero di tenermi In modo 125 Quindi non andare In due e mezzo E 2009 Poi fu l'ultimo Mio anno Di 125 Perché poi anche lì Ormai Ero nella fase finale Cioè quando ormai Non hai più credito Certo Ormai Sei un pilota Di fascia B Ero compagno di Yannone Nakagami E Folger Per cui Cioè dei tre Che poi in realtà Due erano poggiati Da Dorna Del progetto Giovane di Dorna Perché interessava Il tedesco Che era Folger Giapponese Nakagami Andrea aveva La moto ufficiale D'Apriglia Quindi io ero il quarto Messo lì In un angolino Fai quello che riesci E poi L'ultimo anno Quello più brutto Perché in realtà Iniziavo a avere La consapevolezza Di che poi andavo forte Bene Costruivo bene Però non potevo finalizzare Perché non avevo Il materiale E non ti sei neanche divertito No Soprattutto Non mi ero divertito Perché Cioè capivi Che eri ormai Messo Marginalmente Cioè eri messo I margini A quel punto Devi Ricominciare Quasi tutto da capo Reinventarti Reinventarti A quel punto Ho deciso Basta con le moto Smetto Non corro più Ah Mi ritrovo nella vita reale Quella Quella che tutti Prima o poi Quando fanno Il mondiale Perché è un altro Di quegli scogli Che dico Ragazzi Perché tu sei molto giovane Quindi sei nell'adolescenza Arrivi in un mondo Dove Tutti i lustrini Tutti i lustrini Ti recano il culo Tanti amici Tutto bello Tutto figo Poi Torni indietro Il campione Non ci arriva mai O se ci arriva Ci arriva a 40 Che deve fare Che a quel punto Che prende la botta Con la realtà Ma in teoria a quel punto Ha guadagnato Ha fatto Brigato Quando ci arrivi In quella fase di età Che hai 20 anni Devi andare a lavorare Perché tanto Non hai guadagnato Perché non farlo Sei giovane Però ti trovi Con la realtà vera Quindi mi sono trovato Che era Ottobre Novembre Finito il mondiale E Cazzo Sono fuori dal mondiale Non corro C'ho il butto dalla casa Non c'ho un caso di lavoro Che faccio Vabbè Inizio a lavorare E certo Fondamentalmente Non corro più Non corro più Poi il mio amico Siavonti dell'italiano Che era Amici di famiglia Dentista Dai Vieni a correre Dai provala almeno No basta Basta Ha fatto leva Sulla mia passione Sa che alla fine Ce l'avevo Da qualche parte Nascosta E quindi Alla fine Ho ceduto Vengo qua A Vallelunga Che c'era la prima gara Di Chief Stock 600 Ma io La prima immagine Che ho di te Di persona È quel giorno lì Che stavi a raccontare Della gara O del dopogara Quel weekend Mi ricordo Un dopo O gara O prove libere Verso Ti devo pure Ma ho un'immagine Provo fermo I pad Verso l'1 2 Quelli all'inizio Giù in fondo E parlavi con persone Io avevo un box Lì vicino Tu non ti ricordi Di me ovviamente Però tu eri già Per noi che iniziavamo Eri Zanetti Che veniva dal mondiale Infatti Ripeto Io alla fine Avendo la passione Sono venuto Dalla Stock 600 Addirittura C'è anche Magari tanti Che fanno il mondiale Infatti Era Zanetti Che ricomincia Dalla Stock 600 Però alla fine Io sono venuto Giovedì Prendevo 4 secondi Damo a 6 Venerdì 3 Sabato 2 In gara Secondo Però no Pensavo che ti ricordassi Perché avevo due cose Avevo un corso Con la tutta Tutta nera Che mi chiedevano Perché è nera Perché sono incazzato nero Due Perché sul podio Ho spaccato la bottiglia Perché si era rotto il tappo L'ho aperta Sullo spigolo Dalla bottiglia Invece che Far la sciabolata Diciamo Mi è esplosa La bottiglia in mano C'ho ancora i segni Dei punti Sul mignolo Perché praticamente È proprio così Cioè Non mettero i punti Quindi ero sul podio Che fazzoletto Perché mi stava uscendo Il sangue dalle mani Invece che andare in conferenza O sono anche andato Ma mi tenevo la mano Franchetta E poi sono al centro medio Ma ho messo i punti No questo non Franchetta Non ricordo Vado a casa 1000 euro di premio Da fare il secondo Ho pagato la rata del mutuo Dalla casa Così Mi ricordo Tai ripartita La mia seconda fase di carriera Che è quella Che stai portando avanti Fino adesso Sì Diciamo che secondo me Questa è la terza La seconda Giusto La reputola seconda Quella che Sono ripartito Dopo da lì Sono ritornato a mondiale Però con la mentalità da O vengo pagato O io non corro più Stop Perfetto Non che non guadagnavo Magari qualcosa Quando facevo il mondiale Per ora sempre Hai gli sponsor Con gli sponsor Gli appoggi ai team Paghi X X ti rimane No Quello che è una cosa classica Stop Io voglio essere pagato Ho già deciso io Per me le moto Ho chiuso Con il 2009 Basta Se io corro perché Mi valutano per il mio valore Quello che posso portare Poi trovo uno spawn Vediamo Ma non Non era quello Mentalmente io devo essere remunerato Perché ho un valore Da pilota Il pilota rischia Non può essere Che il pilota Non guadagni Quanto un meccanico Che va a lavorare Perché anche il pilota Oltretutto è quello che rischia la vita Tra l'altro Quindi per me è follia pura E quindi è iniziata La mia seconda parte di carriera Perché ormai Nella mente delle persone È consuetudine Che il pilota Che rischia la vita È quello che paga il meccanico Sostanzialmente Per portare Parlo dei piloti Con le valigie Ovviamente Ma io non è Io reputo Non è un problema Il pilota Con la valigia Nel senso Passiamo i termini Di tale È giusto che uno ha X di spawn Ne spende magari La metà a cuore La metà li guadagna Ma C'è il manager Detto che lo fa Però ormai C'è È la mentalità Che si è creata C'è il team Ormai C'è la ragione In ottica Che devono portare Tu lavori Se il tuo budget Per fare l'italiano È 100.000 Tu trovi 100 E prendi il pilota Che secondo te Ti fa correre Per vincere Certo Chiaro Trovi 150 Lo stipendi Prendi quello che Per il mondiale Ci vuole un milione Non è che allora Tu hai 150 Sponsor Devi chiedere al pilota Restante Per andare a fare il mondiale No ci vai quando tu Con la tua azienda Che è il tuo team Sei in grado di Gestire il campionato Per cui va a correre Certo Vuol dire che non sei in grado Neanche te come team manager Di farlo Poi può succedere Tutta una stagione Che ti salta uno sponsor Vabbè Devi ricorrere A un pilota Che ti riporta Va bene Ma non deve essere Una costante Che ormai È quasi sempre così È consuetudine Quindi Stocca 600 Del CIV Torni a questo punto Vinci il CIV? No Lo perdo Vince Fabio Massei Lo vince Fabio Massei Che quell'anno Andava molto molto forte Io ero caduto a Monza Forse Il neo Perché la seconda gara Era a Monza Io ho capito che Mi si era riaccesa la fiamma Ho voluto esagerare Ero pagata Superbia Però da metà stagione Mi hanno chiamato In Stock 1000 A sostituire La Calendola Col Team SS Lazio Sì E da lì Diciamo Sono rientrato Al Mondiale E ho fatto subito bene Poi Di Borno Secondo Ho fatto tre gare Così Mi ha visto BMW Che cercava sostituto Di Badovini Che sarebbe passato In Superbike Mi hanno offerto La proposta Stipendiato Insomma Quindi E si andò In Stock 1000 In BMW Poi Passi in Superbike Superbike 212 Con Con la Ducati Team DFX Pata Pata Faccio una bellissima stagione A mio avviso Considerando Il calibro di piloti Che c'era Le moto ufficiali Che erano schierate Però Anche lì a volte Vedi se Il posto giusto Al momento sbagliato Fin'anno Il team chiude Mi si era aperto Una porta in Honda Sembrava all'inizio Che potessi anche fare La Superbike Compagno di Ria Però poi alla fine Honda UK Mise lì Asla Quindi a me Mi propusero Di fare 600 Con Tenkate Tenkate Come si pronuncia Tenkate 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 Mi ha chiesto Tu vogliate Perché io non so mai Se è Tenkate o Tenkate Però Tenkate Io li chiamavo Ronald Garrett Appunto Così Non li ho mai neanche Chiamati Tenkate Perché Era gestito Da loro Il team Honda Ufficiale In Superbike Mi propusero Però Dico Vabbè Comunque La squadra ufficiale Contratto con Honda Certo Team campione del mondo Perché con Plur campione del mondo Esso era un qualche anno Che non lo vinceva Però insomma Era una signora squadra Un signor team Ah giusto Pure la 600 Con Corso Foglu Ha vinto De Mongele Foglu Pitt Pirro C'ha corso Anche Pirro Charpentier C'ha vinto Vermeulen Magarig Tanti Van de Mark Van de Mark Ria non ha vinto Con loro il titolo Però passò su Perché ne fece solo un anno L'anno che vinse Pitt Che era suo compagno Però passò in Superbike Vinse Tosserland Gli anni prima Comunque insomma Ne vinsero tanti Io vabbè Ho detto Comunque squadra ufficiale Insomma Ormai per me C'è un portante Arrivi squadra ufficiale Stipendiato Però c'era Van de Mark Era il loro talento Costituito da Honda Tenkete Olandese L'olandese Effettivamente era Forte Però sono stati Due anni importanti Dove Ho parlato A lavorare Con una squadra ufficiale E mi è servito Anche per l'anno dopo Quando andai In MV Agusta Insomma Mi ha insegnato molto Il metodo Il metodo È stato importante Quindi arriviamo Il discorso Quello dicevo prima Cioè le pressioni Della squadra ufficiale Quando hai la possibilità Di andare ufficiale Bisogna andare C'è solo da imparare Insomma Bisogna perché Quando arriva È una chiamata Troppo importante Per non accettare Una squadra ufficiale Ammesso sempre Del potenziale Della moto Certo Però Se è ufficiale Si presume Insomma Che abbia Le carte in regola Quando c'è la possibilità È giusto Coglierla Tanti dicono Eh magari Aspetta un anno Non sei pronto Le pressioni No Palle Devi andare Vai Tanto se la pressione Se non è quest'anno L'anno L'anno prossimo Se vuoi andare ufficiale Tanto vale Che ti togli il dente E capisci Se sei in grado Di Certo Quindi rimani ufficiale MW Dopo passo MW Faccio terzo al mondiale Mi era mancata Mi è mancata la vittoria Quell'anno A mio avviso Sono stato troppo calcolatore E mi è mancata la vittoria Che avrebbe Diciamo Messo la cdg Su una stagione Secondo me Molto molto Bella Consistente Ho fatto Tanti podi Quell'anno Che poi non erano Le 800 Erano Le 600 6-7-5 6-7-5 Perché era il tre cilindri Giusto Esatto L'anno dopo Avevo un rinnovo automatico Fini di terzo Rinnovo automatico Contento Bello che partiamo Prima gara Dopo è arrivata La doccia fredda Che era la MV Era in crisi economica Era andata in concordato Con tutti i problemati Per cui tutto quello Che conosciamo Che ne sono succedute Sai il mio contratto Era diretto con la casa I primi me li pagava la casa L'ingaggio pagava la casa Quindi Già non avevo i soldi Per pagare i dipendenti Figuriamoci i premi I premi e tutto Ma anche la moto stessa Mi ricordo i motori Fatti con i pezzi usati No 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 Andava No Purtroppo Quindi è stata la mia Ultima stagione piena Perché dopo Ovviamente Per la legge Che sappiamo Fai un anno male Anche se non è per colpa tua L'anno dopo Ti chiedono i soldi Ma come Quattro anni Hai fatto quinto Quarto o terzo al mondiale Un anno che uno Vermo di V Che sapete Che non sono miei E non va bene E no Grazie Arrivederci E si chiude il secondo capitolo E comincia poi L'anno dopo Quindi a questo punto Il terzo capitolo Quello Il terzo Quell'ennesimo ripartenza Dal CIV Perché poi tutti Mi dicono Ma basta Perché Perché io ho passione A me piace Maury Maury Aveva vinto il CIV Con Baiocco Baiocco Però era andato via Cercavo un pilota Broncos Che siamo amici Mi dicevo Guarda che Mauri Senza pilota Mauri Parliamo Di motocorsa Il team Che fa correre Axel Bassani Adesso Guarda che Cazzo Primo anno di team Vince il CIV Baiocco se ne va Se con pilota Secondo me Tu sai il profilo giusto Mi dice Broncos Luca Luca Conforti Il mio attuale Team manager Team amico Perché no Ripartiamo dal CIV Superbike Perché ho ancora voglia Perché mi piace E quindi tuttora Quello che faccio Con il CIV Dopo e da lì Mi si è aperta la porta Di fare con l'audatore Ducati Superbike Quindi tu attualmente Sei in collaudatore Allora Sono ancora Con l'audatore Superbike Anche se quest'anno Per Diciamo Ragioni Tecniche Un po' La moto Inizia Quasi Essere a fine ciclo Oltre a che essere Molto competitiva Perché nel mondo Delle Superbike Il livello di evoluzione È limitato Rispetto alla GP La moto Attualmente Domina Assolutamente Non c'è questa Frenesia di sviluppo Quindi hanno deciso Di far fare I chilometri Quest'anno a Bulega Per Ah ok Per preparare Al passaggio L'hanno provato E quindi ci hanno Investito Giustamente Non avendo Cose molto tecniche Da provare Hanno fatto Far chilometri A Bulega Però sono sempre Coinvolto Nello sviluppo Delle moto Di serie Sportive Quindi alla fine Magari mi utilizzano Un po' di più Nello stradale Tra virgolette Passiamo il termine Ma non in strada Non in strada Parliamo dei prodotti Che poi destinati All'uso stradale Sì L'uso stradale Però di sviluppi Racing O comunque Sempre l'altro Il programma Panicale Insomma Panicale Che magari Va dalla R Alla super leggera Sì Ecco Quanto cambia Tra una super bike Del mondiale E una super bike Del C Ma alla fine Di tempi Magari a volte Non tantissimo Però Sono due moto Completamente diverse Se non Per il telaio Perché dopo Cambia Impianto franato Sospensioni Forcelloni Le possibilità Di modifica Ma anche Di cuciersi addosso La moto Puoi fare Serbatoio Diverso Selle Cambia molto La distribuzione Dei pesi Quindi era Molto abbastanza Diversa Infatti Ricordo Quanto meno Finché c'erano Le V2 Il serbatoio Della Cambiava Cambiava proprio Cioè era tutto Col cotone Cambiava No ma anche Il V4 Adesso cambia Anche il V4 Cambia tanto Tanto Sì Cambia proprio Anche tutto Reggi Sella Sì Insomma È una moto Diciamo Molto Diversa E a livello Di guida La senti La differenza Ma anche Di motore Ma motore Ti dico la verità Che in realtà È quello Che forse cambia Meno Perché Forse prima C'era più differenza Prima sì Perché non c'erano I motori funzionati Insomma Si potevano cambiare Adesso i motori Ti dico la verità C'è poca poca differenza Tra il motore mondiale Superbike E quello del C Ma anche quello di serie Cioè Se tu prendi una V4 R Stradale Di serie Con lo scarico Che c'è In vedita Col kit C'è pochissimo delta Di differenza Tutti pensano No no C'è poca differenza Perché ormai ci sono Delle potenze tali Che è più importante Metterla a terra Che Assolutamente Ma io ricordo Già i tempi Della panica Le V2 Comunque Che erano già Moto che mettevi Con targa e frecce Ne specchietti E comunque È una moto che andava Se pensi Vado con la V4 R Mugello E i geni G54 Così? G53 Con le gomme E basta? Ma guarda Quest'inverno A Gerez Ero giù A fare allenamento Con Bassani Con altri piloti Avevo una V4 R Da Da fare delle prove Era stradale C'avevo anche i fari C'avevo stradale Però le gomme Avevo le Pirelli SC1 Ah ok Uno Qualche volta zero Per dirti No le tre Ecco No 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 Però gomma Da amatore Cioè Normale Moto con Fari Originale Solo lo scarico Dal kit E adesso Non mi ricordo Il tempo Ma so che Sono sicuro Perché siamo andati a vedere Non sarei partito Ultimo In griglia Della superbike Per cui Facevo la benzina Quella del distributore Con la tarica Quindi insomma Niente Cento e passottani Sospensioni stradali Freni stradali Una R Una R Beh io ricordo Qualche anno fa Con Poggialli Al D.R. C'avevamo le moto Chiaramente Targate C'erano giusto Quella sua E di Dario Dario Grazie Che avevano gomme E scarico E io papà Ero riuscito Insieme a loro A fare insomma Le varie prove E tutto sommato Adesso non ricordo Esattamente i tempi Ma sono rientrato Guardando i tempi Con Le sc3 Poi ci avevamo Specchietti Tirati su E senza targhe Ma ti dico Si faceva tranquillamente Non ricordo Giocando E senza andarsi A cercare 46 47 A fare lunga Con le sc3 Frecce Ormai Moto Di il giorno D'oggi Ti permettono Ma giocando Senza prendere Ovviamente Nercun tipo Di rischio Insomma C'avevi dietro I No Non è che facevi 46 con dietro I ragazzi Che giravano Per il DR È ovvio Però I due giri Che ho fatto Con Manuel Insomma Non potevi Stampare le moto Del DR Il giorno La mattina Del DR Insomma Però Sono Sono già pronti Che ne pensi Di Axel Un bel pilota Molto Politicamente scorretto No Non è Non è politicamente scorretto Non è poco politico È poco politico Perché alla fine dai Politicamente scorretto Secondo me No È altro Che probabilmente Nel mondo nostro Non si vedrà più No Non più Non è più permesso Tanti anni fa Lo era Però diciamo Che per appunto Il mondo d'oggi È uno che Non lo manda a dire E questo probabilmente Gli ha precluso La Ducati ufficiale A mio Questo senza che nessuno Mi ha detto È così No 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 Parliamo di opinioni Il mio parere personale Perché comunque Ovviamente È un bel peperino Però È uno Sano Con dei valori sani Poco leccaculo Vero Sì sì Che alla fine Senza timori reverenziali Però almeno uno vero Perché per l'ottanta per cento Ti fanno un sorriso davanti Stretto Oh grande Grande amico Poi Peggio delle cose dietro Almeno lui è uno Sincero E poi va Va forte Insomma per essere Diciamo che si è trovato Nel posto giusto Un momento giusto Secondo me Con una squadra Che lavora bene In crescita Che gli ha dato spazio Quando nessuno Glielo dava Lui se l'è creato Si è costruito Un bel percorso Ha fatto tre anni ottimi E sono curioso di vedere Dove andrà Cosa farà Perché comunque La moto è competitiva Cioè dove è adesso Quindi ha sfruttato bene il pacchetto La moto Rimane qui l'anno prossimo Da quello che ho sentito No Cose da ultime ore Penso che se ne vada Perché ha forse Una possibilità Di andare in una squadra ufficiale È giusto che la colga Da ultime ore Io ero rimasto a qualche Insomma Però magari smentisce E dice Guarda preferisco stare Su una moto Che mi permette di stare Nei primi Top 5 E Ragazzi Cosa va forte Da tanti anni Beh io Allora Fossi lui O hai veramente Una possibilità Come dicevo prima Squadra ufficiale Allora devi dire Oh Cioè alla fine Lo fai per lavoro anche Cioè Ormai è il lavoro Insomma E quindi Dico Fai due anni Ti metti a posto È giusto Che fai una scelta così Se non ce l'hai Però Ci penserei bene Perché se rimane dov'è Con i cambi Che ci sono stati Lui veramente Può fare nei tre del mondiale L'anno prossimo Se sta lì Perché i risultati Li fai costruendo E lui adesso è tre anni Diventerebbe il quarto Con la stessa squadra Conosci le persone Conosci come lavorano Conosci la moto Il metodo E tu dici Beh Topark va via da Yamaha Bisogna vedere come si trova Con BMW Tra l'altro Johnny va via Da Kawasaki Va in Yamaha Bisogna vedere come Si trova con Yamaha Ha firmato È uscito un comunicato Pochi due giorni fa Mi sembra Quindi ci sono Degli avvicendamenti Che tu Hai un attimo Che Parti subito Forte in campionato Perché sei l'unico Che è rimasto Con la stessa situazione C'è Alvaro Certo c'è Alvaro Rinaldi va via Viene su Bulega Bisogna vedere Sai Mondiale Debutto Bisogna vedere come si trova È un attimo Che già quest'anno lì È un attimo Che Che ti trovi a giocarti Il mondiale O comunque A ridosso Quindi dici Devi ponderare bene Non è Non è una scelta facile Sicuramente Poi adesso Non è che gli rompo le palle Gli chiedo Quante alternative ho So che Da quello che so Ha una proposta ufficiale E giustamente La deve valutare Poi farà lui Io me lo ricordo Dei tempi del trofeo Non l'ho conosciuto Quando andava al trofeo Era comunque Uno che faceva già La differenza A 15 anni 16 anni A mio avviso Deve imparare un po' A gestire la gara Ancora poca visione di gara Infatti A mio avviso Sono gli ultimi giri Che sostanzialmente Però Come lo dico a te Lo dico a lui Quindi Sì No no Ma infatti Ed è vero Insomma Sono opinioni Ma insomma No ma più che gli ultimi giri Proprio la gestione di gara Che lo porta magari A peccare poi gli ultimi giri Spende energia Sono poi gli ultimi giri Che poi di fatto Paga Sì perché vuol far tanto all'inizio Quando invece magari dovrebbe gestire un po' la gomma Capire come guidano gli altri Dove sono i loro punti di forza No Invece del ritorno di Andrea Gli Annone Beh allora L'ho visto a Vallelunga Inizio anno Quando era qua a girarsi Girare un po' per allenamento Abbiamo parlato Parecchio E È un'incognita Lo conosco molto bene Alla fine Lo fa perché Anche lui c'ha la passione Sotto sotto Certo Perché appare Per quello che a volte non è Però Se no Non si rimetterebbe in gioco Gli dico Guarda Sei talmente anche Passami il termine Ignorante Che magari Ti rimetti anche in pista serio E sei capace anche Che rivai forte Però sai I tempi cambiano Dipende anche poi te Come sei allenato Come ti presenti Certo Quanto sei pronto Con che mentalità Riaffronti Perché tu non l'hai mai fatto Il restart zero Cioè Io l'ho fatto due volte Oltretutto è arrivato in GP Cioè quindi È ancora più Il divario del restart È ancora È difficile Vediamo Vediamo Ti dicono Con uno come lui È talmente Fuori dagli schemi Che O fa Una stagione della madonna O Proprio Male Cioè Proprio è uno Da estremi Sì È da estremi lui Quindi boh Sarà un'incognita Sicuramente farà bene All'inizio Avrà All'ambiente Cioè porta Ah sì Quello sicuramente Si dovrà adattare lui Allo stesso tempo Sicuramente Che comunque è lontano Da arrivare da un po' In moto Non ti dimentichi Come si fa andare Dipenderà Quanto si vuole Rimettere in gioco lui Ecco Questo è il punto Quello sì Però Noi siamo contenti Tecnicamente È arrivato all'apice Livello tecnico Moto Ingegneri Tecnici Riparte da una squadra privata Piccolina Però da un mondiale Superbacch Sì sì Quello sicuro Però Insomma Con una moto competitiva Molto competitiva Ma diversa Da quello che guidava Quindi Secondo me Deve fare un reset Però È uno che ha le capacità Ecco Noi gli auguriamo tutto il bene Perché insomma Siamo tutti contenti Di questa cosa Te l'anno prossimo? Io Guarda Alla fine Come ti dicevo Ovvio che mi piacerebbe il mondiale Ma tanto Faccio anche i conti Con la realtà E dico Non è tanto l'età Perché RIA Alla mia età È ufficiale Un ufficiale Va forte Bautista È più anziano di me Sì infatti Il mondiale superbike Però io ormai Sono uscito da anni Passaporto Non ho budget Non sono appetibile Per gli sponsor Di un certo fascia Certo Quindi ti dico Io sto bene Comunque per quello Che mi sono creato Anche l'italiano Mi fa star bene La squadra sono amici Lavoriamo bene La domenica sera Sono a casa dei miei figli Questo è quello Che ti Mi fa star bene Chiaro che io mi sentirei Di riuscire a affrontare Ancora un anno Due il mondiale Mi piacerebbe Però secondo me Non ci sono Ne prospettive per farlo Non mi dispiaceva La endurance Però non c'erano Le premesse Con la squadra Che gestisce i Ducati Di costruire Un qualcosa di interessante A livello di mentalità E quindi Sto bene qua Credo che se Tutto va come deve andare Rifarò il CIV Con Luca Con il team Broncos Che è la La tua condizione Insomma Che come hai detto Ti fa star bene Perfetto Quest'anno sei compagno Di squadra Di Compagno di squadra Di team Più che altro Di Luca Salvatori Allora Sì in realtà Compagno di squadra Cioè sono da solo In superbike Poi Sì compagno di squadra Luca compatibilmente Con i sui impegni Moto E Ha fatto il National Poi ha fatto una gara 600 Insomma si è diviso In un po' di categoria Sì Due ragazzi Nella National E un 600 La squadra è strutturata Che fa più categoria Però sì Avete il vostro equilibrio Sì sì Ma anche perché È strutturata con l'uno C'ha la sua squadra Di meccanici Ingegneri Bella squadra Vista da fuori Luca sta lavorando bene Siamo partiti Alla fine insieme Quindi Ha fatto dei passi avanti Lui alla fine È un imprenditore Di mentalità Quindi ha fatto I passetti piccoli Ma ponderati E sta costruendo Una bella squadra Ti dico che È una squadra Che Potrebbe tranquillamente Fare il mondiale A livello di capacità Anzi Secondo me È molto meglio Di tante che ci sono Perché si spacciano Per Che in realtà Non sono Non sono È fumo E invece Lui è molto concreto Mi dispiace solo Che non abbia Il budget per farlo Perché secondo me A farlo insieme Potremmo fare Veramente bene Però Non c'è budget Ma soprattutto Anche lui Un po' come me Cioè ormai Ha un equilibrio Famigliare Figli Sta bene così Alla fine sta bene così Che come abbiamo detto All'inizio Della puntata Insomma L'equilibrio Proprio Il farti star bene È la cosa che Sì perché alla fine Poi diventa un equilibrio Non c'è O veramente C'è un ritorno economico Che tu dici Beh Lo devi fare anche controvoglia Perché a volte Bisogna fare cose Purtroppo Certo Anche per Per mettersi a posto Se comunque Si ha una famiglia O quant'altro Però se non c'è Molta differenza Devi fare le cose Che ti fanno star bene Che ti danno un certo equilibrio Che poi alla fine È quello che ti fa rendere Certo Piccola parentesi Tu ci avevi avuto pure Una possibilità Di approdare O forse sei andato A fare qualche gara Di moto america Sì Quella È una parentesi In realtà È stata Breva e intensa Sono rimasto scottato Perché in realtà Ho fatto tutto quello Che devi fare Per Per essere riconfermato O perlomeno Per essere Non riconfermato Cioè Essere parte Fondamentale del progetto Anche per il discorso Che ti dicevo prima La sei valorizzato Esatto Poi si è rotto qualcosa Che onestamente Non sai cosa? No Non ho voluto neanche poi Approfondire Cioè o meglio Secondo me So cosa Ma ci sono rimasto male Perché Quando fai tutto Quello che serve Non c'è Cioè Quando magari Ti manca un tassello Ti danno sempre Quella colpa La colpa Quello Eh ma non hai fatto Quello Eh ma sai Se ricevi quello Io ho fatto tutto Quello che serviva Sei gara Sei po' di vittoria Cioè Economicamente Costavo anche meno Magari di quello Che è venuto Al mio posto Che è andato Al mio posto Cioè È stata proprio Una scelta Politica Dettata Dalla fine Non so cosa Perché alla fine Non ha portato Risultati Peggio Era Loris Bazzi Con lui No Perché Vabbè Questi casi Però È stata Ti è dispiaciuta Quella cosa Mi è dispiaciuta Perché A me avrebbe fatto La differenza Secondo me Avevo Costruito una base Non hanno capito Che quella base È costruita Dalla mia esperienza Che mi sono fatto Negli anni Tra i vari campionati Esperienza Con l'Audi Che so Adattarmi In tempi brevi In campionati particolari Quelli che dicevano Prima del specialista Certo Però Alla fine Hanno fatto queste scelte Ma non ho capito Da chi Cioè Il problema Non ho voluto Poi affrontare Perché ci sono rimasto male A me A me avrebbe fatto A me avrebbe fatto piacere Differenza Perché me l'ho trovato bene Come ti ho detto Per come vieni valorizzato Là Stavo già programmando Di andare giù Con la famiglia Sai Mi nasceva anche La seconda Il figlio Insomma Organizza Avevo già organizzato tutto A casa Asili Cazzo E insomma Non è un gioco No E E ti dico Boh In California Dove ti saresti dovuto No Sarei stato vicino Alla zona di New York Perché almeno Ero col fuso Vicino Costa Est Per l'hai diviso? Cioè c'è un campionato Est Un Costa No Non è come col cross Il calcio ad esempio è così Anche il cross Anche il cross Cioè o meglio La due e mezzo La Litter Fa Costa East E Costa Ovest E poi fanno solo la finale Insieme Ok Quattro e mezzo No Lì fai tutto Però avrei tenuto la base a East Perché almeno Stavo vicino A New York Poche distanze Cioè Per tornare in Italia Insomma Volo relativamente Non lungo Perciò New York Mi sembra Sì Ottoro Sì E che sono trattante Mi pare per arrivare Per Los Angeles Sì E poche ore diffuso Quindi Avrei tenuto la base In Costa Est Ma Alla fine è saltato tutto E ormai non ci penso Neanche più Però Me la Ricordo Insomma In quel periodo Che mi raccontavi Insomma Che ti dispiaceva Questo Ci avevi fatto la bocca Insomma Sai quando Esatto Che poi Effettivamente Potevi vincere un campionato Quindi C'erano le premesse C'era tutto Eppure economicamente Sarebbe stata una situazione Era già tutto definito Siamo passati Dal lunedì Che dovevano mandarmi In contratto Era lunedì Al Sabato Che Mi comunicano Che Hanno scelto Un'altra E io In quei quattro giorni Non ho capito Cosa ci è successo C'è onestamente Vabbè Però abbiamo capito Che il tuo equilibrio L'hai ritrovato Per cui Dopo ci fai il callo E invece Dopo l'infortunio Dell'anno scorso Insomma L'infortunio Che ti ha tenuto fuori Un pochino A Misano Subito Sì Prima gara Gara 2 Di Misano Quindi la prima Feci il podio Gara 2 Giro di ricognizione Lì comunque Considerando L'esperienza Considerando l'età Considerando la condizione Tutto quello Che noi abbiamo detto Fino adesso In quel periodo Ti sei fatto Delle domande Ti hai mai palesata L'intenzione Di approfittare Dell'occasione Per smettere Forse nel breve Tragitto Dal centro medico All'ospedale Perché oltretutto Si era rotto L'elicottero Quindi Ho dovuto fare Centro medico Bisano A Cesena A Cesena No avevo l'emorragia Ha deciso di portarmi Diretto a Cesena Elicottero Rotto Io ero cosciente Sempre stato cosciente Quindi sono passato Dalla fase Che ok È la fine Perché vedevo Il cielo Azzurro Non c'era una nuvola Non mi muovevo Ho detto No Quando sei Quando ti metto Un subarello Ho detto Mi sentivo il sangue Ho detto Alla fine No alla fine Lascio perdere No alla fine È la fine Sto andando Dopo sai C'è le percezioni Hai avuto quella sensazione Però ho avuto quella sensazione Non stavo bene Centro medico Sempre cosciente Rispiratore Sento che l'elicottero Non parte Cioè è rotto Quando è il tuo momento È il tuo momento Hai avuto paura In quei momenti No Ero lucido Non avevo paura Quando sei talmente In adrenalina Che ero Alla fine tranquillo C'è la Lorena La San Giorgi Che è quella che Insomma La nostra Una delle protettrici Della mondiale Clinica Che mi fa Non pensavo Che fossi così Calmo Cazzo devi fare Urlare Il dolore Me lo tenevo Passato del tragitto Quindi è durato Secondo me Dal tragitto Dal centro medico Da Cesena Infinito Ho sentito Tutte le buche Dalla strada Da lì Il giorno dopo Mi risveglia In realtà Operazione Sveglio Mantenuto Quindi ricordo Perfettamente No scusa Non ho capito Durante l'operazione Sei rimasto sveglio Sì Perché io ero cosciente Hanno visto che ero calmo Mi hanno detto Guarda se È meglio Perché puoi collaborare Hanno visto che ero Tranquillo Che operazione hai fatto? La milza Solo che mi sono entrati Ma alla fine me l'hanno salvata Invece che asportarla Hanno visto Anche avevo il polmone perforato Però lì si è stabilizzato Fortunatamente Avevo una buona capacità respiratoria E alla fine era meno Di quello che era Cioè voglio dire Sì Sì Fortunatamente è andato bene Era tutto rotto Ma è andato molto bene Quindi ho fatto tutto Mi ricordo perfettamente E bene Dal letto di ospedale in poi Il giorno dopo Già io volevo andare a fare Nelle malle 24 ore Che era la settimana dopo Questo è un classico Insomma Quanto durata la mia Smetto di correre Tempo tragitto Misano Cesena E quindi quel giorno Dal giorno dopo È rimasto L'obiettivo era Ritornare subito In pista Quindi Sì Fisioterapia Cioè Aspettare il tempo Che ci voleva Fisioterapia Sì Però è stata un po' lunga Sì Meno Meno di quello Che una persona normale Ti dà in un anno Io dopo tre mesi Lo in moto Il sabato firmato Sono venuto a casa Neanche una settimana Dopo L'incidente E dopo dieci giorni L'ho già andato In acqua Che anche lì Ho fatto riscoppiare Il polmone Il pneumotorace Perché sono andato in acqua A fare fisioterapia Con la pressione Quindi c'è avuto Un pneumotorace Sì Sì Anche Sembrava che S'era già tappato Sera Però io sono andato in acqua A fare fisioterapia Con la pressione Dall'acqua Ci stavo lasciando le penne Anche due settimane dopo Però anche la mia moglie Ha capito che Dopo una settimana Aveva già capito Che Dovevi lì di cominciare Dovevi tornare Cioè All'attimo Ha detto La volta buona che smette Invece ha capito C'ha quasi sperato Magari No Alla fine Mi sa che dopo Ho capito che è meglio Che è meglio che corri E come è stata La prima volta in moto Che sensazioni hai avuto Quando sei ritorno Il primo giro Il primo giorno Come se nulla fosse stato Il primo in realtà Mi è servito solo per capire Sono andato con le pit bike Affaticato Tutto sommato Prima volta con le moto grandi Luca Dai vieni a Cremona A fare un giorno Che era la correre con Salvadori Ho capito che alla fine Era solo una questione fisica Però ho capito che Mi serviva la gara Vera Perché dove devi Veramente fare il tempo Devi devi spingere Sono rientrato a Misano Ho visto che Alla fine Non era poi così male In gara Aspettavo la gara Io avevo bisogno della gara Per le risposte A me le dà la gara Sempre Perché nelle prove Sai il rischio Gara Quarto a un decimo Dal podio Ok ci sono Ok Posso Tornato Per cui a questo punto Direi che Hai concluso Perfettamente L'immagine Insomma Da come hai cominciato Dicendo che Tu stai bene così E vedi lontana L'idea L'idea Di smettere Nel senso A livello di sentimenti Di Allora La passione La passione è tanta La voglia c'è La velocità ancora Quindi Non mi sono dato Un periodo di scadenza Penso che me ne accorgerò Ah sì Probabilmente sì Magari sarò portato A doverlo far prima Perché non ci saranno Le condizioni Non lo so Se non ci sarà Se ci saranno Oltranza Dovrò capire io Poi sai La vita A volte Magari ti cambia E Momentaneamente Ripeto L'equilibrio È molto Buono E sono veloce La famiglia Non mi spinge Per smettere Perché va bene così Adesso magari dopo Tra un anno Mio figlio mi dice Papà voglio correre Io Vabbè non smetto Corriamo insieme Saresti contento Che lui corrà Se il figlio ti dice Se voglio correre Non lo so Non hai Non lo so Non gli ho neanche insegnato Ad andare in bicicletta Non mi ha rotto le balle Perché gli preferisce Correre a piedi Ha imparato da solo Cioè Perché non voglio spingere Perché sennò sembro Il padre Ecco questa è la cosa Più brutta L'idea però L'idea di Da una parte Se ha la passione Mi piacerebbe Avrei paura Però mi piacerebbe Perché Perché ce l'ho Ce l'ho io La passione Quindi mi piacerebbe Non so come reagirei Non lo so Magari mi piacerebbe Se me lo dice Non lo so Devorei viverla È inutile che ti dico una cosa No 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 Quelle che sono le sensazioni In questo momento Sarei combattuto Perché ovvio Che il genitore Poi ha paura E questa cosa comunque Se uno ci pensa È assurda Noi Noi Voi Pirodivi Non sei il primo Perché Davide Giuliano Ci ha raccontato La stessa identica cosa C'era Max Biaggi Che tempo fa Ha detto Il figlio Gioca a pallone Dice Meglio così Non voleva saperne Di vederlo Sulle moto Tanti altri piloti No perché Vedi Troy Ha messo Troi Belis Il figlio Sulla moto Ed è contento Sta là Tanti altri piloti Seguono i figli Vedi Aslam Vedi tanti altri Parlo di Ron Aslam Tanti altri invece Sperano Tutto il loro possibile Che Non lo so Alla fine è stata Una parte così bella Dalla mia vita E lo è ancora tuttora Che alla fine Ti dico Chiaro Però deve viverla Come l'ho vissuta io Cioè Che c'è la passione Ma è certo Se la fai contro voglia Che non è una passione È solo lavoro Devi essere talmente bravo A fare il tuo lavoro Che anche se non ti piace Lo fai di lavoro Ok Vedi Stoner Che lo faccia di lavoro Gli piace andare in moto Ma non gli piace tutto il contesto A un certo punto Ha mollato pure lui Quindi ti dico Beh se gli piacerà Lo aiuterò Dove posso Ripeto Forse l'unica cosa bella È che gli dico Beh allora Corro finché arrivi A correre contro di me E corriamo insieme Come ha fatto Aga Come ha fatto Aga Quello mi piace Quella cosa di Sono riusciti a incontrarsi Nella stessa categoria Ha fatto il Civaga Alla fine Quando correva A Kito Mi sembra Sì sì 3-4 anni fa Sì sì E la Stok 600 L'hanno fatto La Stok e la Super Sport Insieme Sì perché La Valle Lunga Mi ricordo Che erano nel box Sì sì Con Gambardella Con chi stava Non mi ricordo Non mi ricordo Però mi ricordo Agi Racing Forse sì Ma questa cosa Questo ricordo Carino Bellissimo però Ma perché anche io All'inizio Quando ero rieca Mio papà Ma lui non era capace Di andare in boccia Nel senso Non era un pilota Anche io Cioè Ero all'inizio Ti faccio vedere io Ho fatto un giro L'ho passato in staccata Gli ho dato i 50 metri L'hai uscito Ok ti guardo da qua Tuo papà Che salutiamo Perché poi Ho conosciuto i guardi Ai Mola Quando abbiamo mangiato insieme Quel mondiale No forse era un campioneriano Vabbè comunque Il primo tifoso Il primo Eh beh Se non lo è il papà Chi lo è Senti Lorenzo Io ti ringrazio Tantissimo Di questa chiacchierata Grazie a voi Mi ha fatto conoscere Insomma Una parte di te Magari quella che Uno tiene dentro Ma non ha mai spazio Spero che non è stata noiosa No Noiosa sicuramente Assolutamente no Quindi ci vediamo in pista Va bene Un saluto Un saluto E alla prossima Grazie alla prossima Ciao Ciao Grazie per aver seguito Questa puntata di Razers Se ti è piaciuta E vuoi ascoltarne altre Puoi iscriverti al canale YouTube O seguire questo podcast Sulla tua piattaforma preferita Per non perderti i prossimi episodi A presto Grazie a tutti